Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale, siamo qui su Farmin Simulator 2019, la mappa di Heidi allora continuiamo dal precedente gameplay, come potete vedere lì davanti e qui sto continuando a trebbiare qui stiamo raccogliendo la colza e lì davanti come potete vedere ho finito di tagliare gli ultimi alberi che erano rimasti li sto raccogliendo, quello lì è il primo viaggio da quando mi sono fermato per cui dobbiamo andare a vendere anche qui saranno due viaggi sicuramente due o tre viaggi speriamo tre, per poi avevo detto che compravamo che compravamo il terreno 43, poi l'operaio qua ha finito quasi di seminare quasi per modo di dire adesso finirò io, qua ho tolto due o tre alberelli ma devo andare a vendere questi alberelli qua, questi bei troncozzi speriamo di guadagnare ancora qualche soldino perché devo comprarmi il terreno e lì andranno via ancora bei soldini purtroppo vabbè cosa vuoi farci così questa è l'agricoltura di che abbiamo oggi a disposizione poi basta non credo che ho aggiunto la mod non so l'agricoltura di precisione degli addon non ho ben capito che moda è adesso vado a verificarla col nuovo terreno appena lo andiamo a comprare però nel frattempo ragazzi come sempre io vi ricordo e vi invito prima di capottare male se non l'avete ancora fatto mi raccomando di iscrivervi al canale per supportarmi per supportare i video che sto facendo e il lavoro che sto portando avanti lasciate bei pollicioni in su che andiamo avanti qui dei million like e vi ringrazio commentate fatemi sapere la vostra fatemi sapere che idee avete insomma quello che vi passa per la testa abbiamo fatto 49 mila euro ma speravo qualcosina di più condividete il video mi raccomando così mi aiutate a farmi conoscere su youtube l'abbiamo caricato sì andiamo a vendere già che ci siamo ok basta perché non ce ne sta più devo andare a sistemare la trebbia prima perché è bloccata è meglio che mandi avanti la trebbia giusta giusta è un attimo perché se no se non vado avanti qua però non posso non posso andare a seminare il terreno l'altro quello che ho appena finito di raccogliere quello lì con la colza non riesco a capire come mai l'operaio non va da dritto ma perché non va più non va dritto devo metterlo proprio a 180 gradi ok eccoci qua 46 sbaglio o mi da pasta pagando meno o sono io che carico meno ok ci siamo quasi tutto è stato raccolto mancano due tre pezzettini ma 33 e 9 e rotti e questo può stare qua ok ok è un po saliscendi sta zona è ma mi sembra di aver finito allora adesso mettiamo l'operaio a lavorare qua ah no proprio no devo proprio creare il terreno allora sì vabbè creare il terreno non è un problema togliamo proprio tutto almeno così lo lascio libero andiamo a seminare le piante ah qua un alberello ci vengo subito perché sennò poi mi dimentico ah questo si è schiantato vabbè finisco io allora qua abbiamo finito c'erano due proprio due punti in giro non ho capito perché non ha fatto ok e qua siamo a posto si questo mi serve questo adesso l'abbiamo beccato ok andiamo avanti con la lavorazione è sicuramente qualcosa salterà via è perché il terreno è molto irregolare in modo che poi andiamo a piantarci le belle delle belle piantine insomma e lo sfruttiamo così questo visto che abbiamo la possibilità avrei tanto piccolo e piccolo non ci pianto niente di buono era meglio piantarci un paio di alberelli qua e così siamo ok allora il terreno è completamente arieggiato ci è voluto anche un bel po' perché insomma si fa tirare sto ripuntatore qua non si riesco a togliere queste zone qua ma non credo se boh restano un paio di punti però vabbè amè ok a posto posto a posto a posto mettiamo tutto in farm una cosa allora compriamo il terreno abbiamo detto il 43 il 43 è arieggiato è seminato arato non è arato sul 43 non ci sono lavorazioni e andiamo a comprarcelo 273 mila euro vabbè compra e via comprato anche questo andiamo a casa e a proposito io devo aver finito anche con tutta sta roba qua allora inviamo per la scorpion king questo lo invio invia 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 mi resta solo lo scout che devo utilizzare adesso molto bene allora abbiamo detto che devo andare analizzare il terreno ma scusa un attimo ma allora cosa serve quella se io faccio request ok ok the geology request 1000 fixed free plus 1124 to convert to the drill cost in addition when the result pay sono 1000 euro di geologo però c'è un 1100 convert drilling cost ne esce quando i risultati another 2200 to convert the analysis cost by the laboratory in pratica ci viene a costare 2400 4200 4300 4000 e rotti euro in pratica invece di 1000 allora questo non serve più vabbè proviamo request yes pay ah a posto 2144 questo non mi serve più a sto punto vabbè veniamo con la calceviva perché tanto sappiamo che ci servirà subito calceviva se l'avessi avuto sulla nomes land sui campi grandi enormi avrei fatto sicuramente prima in pratica con quel campo lì con quella legna che abbiamo venduto siamo riusciti a comprare un terreno e un trattore insomma non tante cose eh vabbè che la legna che ne è risultata era scarsetta eh non è che fossero chissà che alberi finchè aspettiamo le analisi del laboratorio portiamo a casa i si portiamo a casa i mezzi 2250 di campionamento se vabbè cominciamo pure con la calceviva ok vai ah no più in qua oh ok vai perfetto sì è un po' particolare eh sì ma no così però oh dai è bello grandino il terreno eh non mi lamento un bel investimento questo mi sa che è il terreno più grande che ho eh sì 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 oh ma consuma calceviva a vista d'occhio però eh va bene dai dopo me la vedo io qua ok ok che tanto le colture non ci sono per cui vado anche bene oh oh signore guarda cosa sta facendo questo mamma mia vabbè andiamo a fare il pieno guarda l'avevo capito io facciamo pieno al trattore anche di calceviva ora cerchiamo un attimo di rimediare perché sennò qua andiamo per le lunghe non inizio mai a seminare oh ma ne va giù di calceviva come fosse acqua ok chi è che ha completato il lavoro e di cosa poi ah ok la bottigliorattrice si oh quasi quasi non mi basta la calceviva ok e qua abbiamo sistemato anche questo problema qua comunque su questi campetti qua si va un po' malino eh con l'irolatrice così grande posto se iniziamo da qua che almeno è tutto bello che è sistemato e pronto per far andare avanti il tempo per il momento sono costretto a seminare semi di soia perché è l'unica cosa che mi fa guadagnare qualcosina in più insomma perché sennò la situazione sarebbe grave qua vabbè lo lasciamo andare e dopo vedremo cosa fare perché è anche un bel campetto da seminare questo eh va bene direttamente dentro il fiume allora proviamo a mettere l'operaio di qua vediamo di qua cosa combina se va un pochino meglio ma dovrò fargli una testa la perché sennò si perde adesso vedo un attimo questo qua me lo seminerò off camera perché sennò vabbè ma se anche se lo semina lui così per me va bene intanto ok finiamo qua con l'erbicida ok fine molto bene partiamo anche qui sul 44 l'1 e il 2 l'abbiamo fatto il 44 per un pelo non viene fatto da sé qua non prendiamo tutto no gira no niente a posto chiudi e andiamo sugli altri terreni bene 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 e qualche macchietta resterà perché vedete forse è meglio tenerlo basso ok adesso è tutto basso vediamo se cambia ok questo è fatto iniziamo dall'altro poi ci resta soltanto il nuovo campo e siamo a posto l'unico problema qual è adesso andiamo a dare un'occhiata anzi finiamo qua poi andiamo a dare un'occhiata al trattore come se la sta cavando a posto allora vediamo un attimo cosa riusciamo a fare sul nuovo terreno e poi credo che mi fermerò perché ormai il tempo a disposizione è scaduto time out vediamo quanto ha seminato ok a posto andiamo avanti qua e poi inizio dall'altra parte va bene dai io credo che per il momento mi fermo qui allora ragazzi io per il momento mi fermo qui come sempre vi ringrazio che state qui in mia compagnia vi ricordo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale mi raccomando attivate il campionino di notifiche per non perdervi nessun gameplay lasciate come sempre bei pollicioni su che andiamo avanti qui di milion like come piovesse e vi ringrazio inoltre tutto giù in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola donazione trovate il link di discord e telegram seguitemi anche lì bene noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao a tutti e grazie per essere qui in mia compagnia e alla prossima ciao ciao